Vanno a robot o lavabicchieri tecnologico? Il fine dichiarato di Makar Shakar, questo il nome dei bracci robotici le cui momenti sono state studiate, ispirandosi a Roberto Bolle, primo ballerino dell'American Theatre Ballet, sta tutto in una frase, come preparare un drink con il telefonino. Per preparare il colpo, Alex Cratenca, Andrew Nichols e Jim Neary hanno già iniziato a prendere lezioni didattica ed a studiare chassé, dégagéé e déchauffé. Resta inteso che la frase più appropriata potrebbe essere come buttare i soldi dalla finestra, perché di barman bravi in giro ci sono, ma non mancano nemmeno i lavabicchieri. Che dire? Continuiamo a farci del male. Suonala ancora, sempre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.